Da sempre nell'universo c'è qualcosa di nascosto, eppure ben visibile, qualcosa che lega fiori, api, galassie, note e conchiglie. L'uomo inizia a capire questo legame imparando la lingua dell'universo, la matematica. Già nei papiri degli antichi egizi si inizia a parlare di proporzione sacra. La piramide di Cheope, la settima meraviglia del mondo, è costruita seguendo le regole della sezione aurea. Sono i pitagorici greci a studiare a fondo la figura del pentagono, trovando qualcosa che ha i loro occhi, è pura magia geometrica. Dopo molti anni, mentre in Italia viene erretta una torre destinata a durare, nella stessa città, un matematico di nome Fibonacci scopre, senza rendersene conto, qualcosa di profondamente legato alla spirale aurea. Scopre una strana sequenza numerica. Quelcosa che ha a che fare con la riproduzione dei conigli. Nel frattempo, oltre ai conigli, si moltiplicano anche gli artisti affascinati dalla divina proporzione. E c'è chi si accorge che la sequenza è nascosta, anche nella musica, che qualcuno arriva a definire il suono della matematica. Man mano che la scienza progredisce, l'uomo scopre con stupore che l'immensamente piccolo e l'immensamente grande sono uguali. La scienza progredisce, l'immensamente piccolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.